Stefano De Martino ha raggiunto Belen Rodriguez a Courmayeur. Nelle foto pubblicate dal settimanale Chi, la showgirl e il conduttore appaiono sorridenti, mentre brindano e si abbracciano. Al dito rispuntano le fedi. Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra essere tornata la sintonia di un tempo. La showgirl e il conduttore di stasera tutto è possibile si sono ritrovati a Courmayeur tra sorrisi e giochi, sono rispuntate anche le fedi. Lo dimostra un servizio fotografico pubblicato dal settimanale Chi. Nonostante i diretti interessati preferiscano non esporsi troppo sulla questione, il riavvicinamento sentimentale sembra plausibile. Come documentato anche sul suo profilo Instagram, Belen Rodriguez si è recata a Courmayeur per lavoro. La showgirl, infatti, cura una linea di moda insieme ai fratelli Cecilia e Jeremias e, in questi giorni, era impegnata in alcuni servizi fotografici. È stata raggiunta dall'ex marito Stefano De Martino. E così, i due hanno avuto modo di ritagliarsi dei momenti in cui stare insieme e godere l'uno della compagnia dell'altro. Stefano e Belen, secondo quanto riporta il settimanale Chi, si sarebbero rifugiati in una romantica baita, oggi li ritroviamo insieme per l'ennesimo fine settimana. E senza figli. E, dunque, che si vedono a fare se non per amore? Non ancora un bacio in pubblico. Anche se tutti sanno che la magia è di nuovo quella. E lo è probabilmente già dallo scorso Natale, i due, in nome della famiglia, avevano voluto trascorrerlo insieme. Attraversio . Attraversio Partido Partido Grazie a tutti Grazie a tutti